e siamo di fronte purtroppo ad un nuovo episodio di discriminazione nei confronti di una persona che ha rifiutato la pozione protagonista questa volta un anestesista dell'ospedale unico di versilia il 9 maggio 2023 sei giorni fa tg news versilia del canale 50 ha dato purtroppo questa notizia guardiamo assieme il servizio lasciamo per il momento la pagina di cronaca del nostro telegiornale vi raccontiamo la vicenda di una donna che si è sentita discriminata dalla asl per non essersi sottoposta al vaccino anti covid abbiamo raccolto la sua testimonianza io mi chiamo intanto elisabetta e sono una non vaccinata e non è un vanto per me è soltanto una premessa discriminata dal servizio sanitario pubblico perché non vaccinata è la denuncia che arriva ad elisabetta che nei giorni scorsi si è sottoposta a un intervento chirurgico in the hospital all'ospedale unico della versilia che ha deciso di raccontare la sua disavventura ma mettermi in difficoltà aggiunge è stata una domanda pronunciata poco prima di sottopormi all'intervento chirurgico mentre stiamo andando in sala operatoria io ero tranquillissima il mio pensiero era speriamo vada tutto bene una persona dalle mie spalle che io lì per lì non vedevo mi domanda se avevo il vaccino il vaccino che è una cosa che ormai non lo so non voglio fare né politica né polemica però mi sembrava una domanda fuori luogo io rispondo di no tranquilla perché ho detto ma mi farà da dottore mi darà dei consigli del perché o mi chiederà il perché invece mi sbeffeggia in faccia un bel complimenti complimentoni io siccome ho il mio carattere mi sono un pochino risentita e difesa su quel lato lì perché io mi sono spaventata ho pensato subito che mi avessero trattato male che mi potevano operare male mi sono dallo spavento mi sono difesa ho detto guardi signora io non ho il vaccino però insomma ho contratto il covid e poi che domande sono che discriminazioni sono perché mi ha fatto questa domanda lei mi ha continuato a dire complimenti a quel punto quando ho sentito che insomma che mi ero risentita ha fatto fede a questo sireologico ha continuato a gridarmi in faccia che non potevo essere operata che io ero positiva invece non ero positiva ero negativa con due tamponi negativi che lo accertavano loro avevano perso i miei documenti sicuramente perché non l'hanno cercato e non li hanno trovati alla fine mi ha continuato a gridare e gridare le loro colleghe di portarmi su perché non mi avrebbe operata alla fine sono stata operata ma perché mi sono arrabbiata però ho avuto tanta paura sono entrata in sala operatoria piangendo io ho fatto un esposto scritto ho mandato una mail all'URP e ho fatto una descrizione di questa anestesista perché ho scoperto che ero un anestesista non l'ho voluta assolutamente nella stanza nella sala operatoria e le loro colleghe mi hanno accontentato e mi hanno anche consolato perché le altre sono state veramente brave immaginatevi la situazione uno è già preoccupato perché deve subire un intervento invece di essere tranquillizzato viene messo ancora di più sotto tensione da un anestesista che ancora discrimina chi ha rifiutato una pozione non e non e ormai lo sanno i muri i sassi i vetri gli ultimi della classe non lo sa solo chi non lo vuole sapere il 15 maggio 2023 dopo che l'oms ha dichiarato conclusa l'emergenza covid in italia avvengono ancora questi episodi per fortuna non tutti i medici sono così a questo punto io mi aspetto dalla stessa classe medica la condanna di questo episodio perché se tacete siete complici voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale